venerdì 4 settembre 2020 bentornati su cper tv il vuo di oggi on the five minutes per 5 round 30 push up and release 10 power clean and jerk e 200 metri di corsa pesi scalature come al solito sulla grafica qui di fianco ormai da due anni e mezzo dovreste averlo capito per quanto ci riguarda di tutto vi auguro un buon weekend ci vediamo lunedì per un altro vuo di insieme anzi per un'altra settimana insieme su cper tv ciao